Il servizio di cassette di sicurezza è un servizio offerto dalle banche per usufruire del quale è necessario da parte dell'utente stipulare un apposito contratto con un istituto bancario che mette a disposizione del cliente una cassetta di sicurezza all'interno del proprio cavo. La banca può verificare il contenuto della cassetta? No, la cassetta di sicurezza è segreta, il contenuto è conosciuto solo da chi vi può accedere. Come si accede concretamente? È necessario per poter accedere a una cassetta di sicurezza l'utilizzo di due chiavi, una in possesso del cliente ed una in possesso della banca e quindi attraverso l'utilizzo delle chiavi si accede alla cassetta di sicurezza che poi viene messa a disposizione del cliente che vi può fare le operazioni di appunto prelevamento oppure vi può depositare i propri oggetti. In caso di decesso dell'intestatario della cassetta di sicurezza qual è la procedura da seguire? È necessario comunicare alla banca il decesso, a quel punto la banca non consente ad alcuno di accedere alla cassetta. La cassetta viene richiusa al fine di assicurare che il relativo contenuto venga rilasciato agli eredi solo dopo che è stato inventariato o dal notaio o da un funzionario dell'Agenzia delle Entrate. Al fine di far pagare le tasse agli eredi del titolare della cassetta di sicurezza e consentire quindi di prelevarne il contenuto solo dopo il pagamento delle relative imposte.